Ciao e benvenuti a tutti. 1, Ultima Stella 87. Non è la Rai 199, 3, 1, 9, 9, 4, è la terza edizione di Non è la Rai, è la sua sigla è bellissima. Se solo calcio trasmettesse South Park. No, perché Micro Communication non la farà mai. Rai è stato, Mediaset Vittoria, TG1 Channel, TG2 Channel, TG3 Channel, Skybook e Disc Doeri Buco, no. Se Rai 4 chiudesse nel 9102? Succederebbe una super duper iper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. Italia 1 Sky Atlantic. Italia 1. Beautiful, è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Philip Bell, è la sua sigla è bellissima. Se HGTV trasmettesse Haunted? No, perché Discovery Italia non la farà mai. 2, Christian. Radio Monte Carlo è un'imittente radiofonica italo-monegasca che trasmette dagli studi di Milano e Monte Carlo ricevibile in Italia, Principato di Monaco e Costa Azzurra, Francia. È la quindicesima in classifica tra le radio nazionali più seguite. Riusciremo a vedere in futuro il restyling completo di Radio Monte Carlo TV, MTV, Radio DJ, Rete Capri, BH1 e tanti altri. Lo scopriremo prossimamente. 3, Mattia. Mediaset Premium o Rai Ladinia. Tutti e due. Tg1 Rai News 24. Tg1. Rai 1, 2, 3, 5, o storia. Rai 1. Se la sigla di Beautiful avesse quella di Tagescow? No. Rai Movie, Premium, Gulp, Yo-Yo, News 24, Sport, Scuola o 4K? Rai News 24. Se Rai 1, 2, 3, 4, 5, Movie, Premium, e Gulp trasmettono Luigi's Mansion 3? No. Se nasce Rai Mattina? C'è già il Daytime. Wii U, nato a novembre 2012, è una console per videogiochi prodotta da Nintendo. Nintendo Switch, inizialmente conosciuto con il nome in codice DNX, è una console a 64 bit di natura ibrida sviluppata da Nintendo e distribuita in tutto il mondo a partire dal 3 marzo 2017. E 4, Daniele. Se nasce S-Media 7 News 24? C'è già TgCon 24. Ed è tutto. Ciao a tutti e alla prossima.